Pesaro cambierà il proprio volto. Con questo concetto di fondo il sindaco Matteo Ricci ha annunciato in queste ore che a settembre saranno avviati due concorsi di idee e un incarico di progettazione per sviluppare dal punto di vista urbanistico tre progetti che da tempo sono all'ordine del giorno. Green Line, San Salvatore e Viale Trieste. Ma andiamo con ordine. Nell'intervento di potenziamento della tratta ferroviaria Bologna-Lecce, confermata dal ministro Giovannini, un ruolo centrale lo avrà il nodo pesarese per il quale il governo ha destinato 1,2 miliardi di euro. Un investimento importante per tutto il territorio, come lo stesso Ricci, ha ribadito più volte e che prevede al posto delle attuali rotaie la realizzazione della cosiddetta Green Line. Un tratto attraversabile a piedi e in bicicletta trasformando uno spazio di divisione in uno spazio di unione. Da qui parte l'idea del sindaco, ovvero quella di far partire per un anno, da settembre 2022, un concorso di idee per capire come sviluppare il progetto. L'intento è quello di coinvolgere soprattutto i giovani che con idee fresche e avanguardistiche potrebbero intraprendere strade alternative. Stesse modalità e tempistiche per quanto riguarda il San Salvatore. Con il trasferimento dei servizi sanitari nella struttura di Muraglia entro settembre 2024, sarà importante riorganizzare l'attuale struttura ospedaliera. La parte ristrutturata potrebbe essere destinata agli ambulatori, mentre per la parte vecchia è necessario tenere in considerazione due aspetti importanti. L'invecchiamento della popolazione e le patologie psichiatriche. In entrambi i casi occorre che si ascolti il parere dei cittadini attraverso il concorso attivato dall'amministrazione. E infine il Viale Trieste che in linea con la conferma dell'area pedonale per il lato nord per la terza estate consecutiva, il Comune starebbe pensando di renderla definitiva e per fare ciò sarà importante sin da subito dialogare con albergatori, ristoratori e negozianti. Un progetto che si potrebbe estendere anche al lato sud del Viale, con la realizzazione entro la prossima estate di Piazza D'Annunzio, diventando così il punto centrale di quell'area.